Buongiorno amici di Kikri, buongiorno a tutti! Amici, stranamente oggi ci troviamo di nuovo, nuova puntata ad Altamura, niente proprio di meno che ad Altamura, ci troviamo di nuovo nella, come la possiamo chiamare, villetta, giardinetto, nupiz ter, nupiz di cane, come la possiamo chiamare, la possiamo definire come vuoi, Nunzio, sempre in piazza alle stazioni, come si chiama? Piazza alle stazioni, io devo chiedere scusa a quell'amico che mi ha regalato la piantina, come si chiama? Edoardo, scusami, tu mi hai regalato la piantina di Altamura con le strade, però non ho studiato, non lo so, c'ho la giustifica, perché avevo dolore di pancia, non ho studiato le strade, quindi qua ci troviamo comunque in piazza stazione, dove c'è questa villetta, non so se vi ricordate, qualche giorno fa abbiamo parlato sempre della situazione di questa villetta, che ci sono degli alberi, i pini d'Aleppo, che sono alberi, avanti, scusami, non la mia capa, a me la memoria, e quindi vi ho detto che c'erano questi alberi, i pini d'Aleppo, che sono alberi da sottobosco, non sono alberi da piantare in città, però 60-70 anni fa non c'era la cultura del verde nelle città curcapigliano che andavano, quindi sono caduti degli alberi, infatti proprio qui ci sono ancora le segnaletiche città e polizia locale, ma ho l'impressione, Nunzio, scusami, lo so che questo è un cappelletto che non ha niente a che vedere con la puntata di oggi, però tu ho l'impressione che qua hanno giustamente tagliato, eliminato due alberi, perché c'è questa voragine enorme, però a fianco vedi che c'è un taglio di albero fresco, si vedono ancora gli guisciamboni e maccheron dei pezzettini di legno, quindi ne hanno tagliati due, e io sono convinto, io non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma visto lo stato di questi alberi, che sono alberi anzianotti, con i rami ormai tutti bassi, appesantiti dalla mancanza totale di manutenzione, e si vede, stanno i bambini sulle altalene e c'è quell'albero così a più di 45 gradi, quindi come abbiamo sentito l'altro giorno l'assessore Falcicchio, l'assessore Falcicchio che disse che è in opera, stanno già facendo questo monitoraggio, questo controllo con i tecnici del comune, io mi auguro che al più presto venga risolta la situazione, perché non è che si può morire per una caduta di albero, ma veramente scherziamo. Comunque, il tema di questa puntata è un altro, ci hanno mandato una segnalazione, sotto c'è la mia mail e c'è la mail di Canale 2, quindi se ci sono problemi chiamateci. Allora, una segnalazione, mi hanno detto, Emanuele, io sono un possessore di due cani, cioè due cani bassottini, cani bassotto, e siccome abito nei paraggi di Piazza Stazione, porto periodicamente, almeno due, tre volte al giorno, questi miei cagnolini a fare i bisognini e più che altro anche a farli un po' divertire, farli fare quattro salti in padella, no, quattro salti in padella, a fare quattro salti in questo piccolo fazzolettino di verde sporco che c'è. E qui però non ho ancora capito questo paradosso, che è un paradosso tutto altamurano. In effetti non ha tutti i torti questo, perché mi ha detto che in questo giardinetto, questo fazzoletto di verde, questa villetta, come la volete chiamare, c'è questo segnale vietato introdurre cani nelle aure, ordinanza sindacale 95 del 28, vabbè, questa è un'ordinanza. Il 2007 chi sindaco stava qua? Ciaccia, Ciappopuppa, Clotino, Stacca. Ok, vabbè, diciamo che, che ti posso dire, 15 anni fa, 20 anni fa non c'era la cultura, non c'era il rispetto per i cani, cioè che forse è l'unico, il vero fedele amico dell'uomo. Adesso, diciamo, le cose sono cambiate. Ma questo cittadino, il possessore di due passottini, mi diceva, e c'è questa cosa, introdurre cani nella aure, vabbè, ci può anche essere, ci può anche essere, perché l'ordinanza sindacale, per essere, come dire, eliminata, per essere tolta, bisogna andare al tar, bisogna, non so, un casino. Allora, lui mi diceva, vabbè, ma poi il paradosso, sapete qual è? Che queste amministrazioni, questi che si sono, diciamo, stabiliti da sette mesi, credendo nella cultura, diciamo, degli animali domestici, hanno giustamente e sapientemente, no, messo, diciamo, nelle zone dove c'è un po' di verde, l'altamura, hanno messo questi contenitori, annunzio, che sono proprio contenitori per la raccolta delle deiezioni, ma quando è bella, delle deiezioni, dei cani, vabbè, apriamo, state mangiando, vabbè, ci sono le bustine biodegradabili con le cacchine, ma no c'è fe, mamma me, con le cacchine dei cani. Poi, vedi quando sono stati bravi al comune, hanno messo pure questa cosa, annunzio, è un contenitore, sono finite, dove ci sono le bustine, i sacchettini, biodegradabili, perché nel caso il possessore del cane, che è in contravenzione in quel caso, che non possiede le bustine, quindi a questo punto può ricorrere a prendere d'acqua, però qui non ce ne sono, quindi il comune deve provvedere. Allora, mi diceva, non è un paradosso, Prima mi dici, vietato introdurre i cani negli aiuole, e poi nello stesso tempo mi metti, diciamo, il contenitore per conferire le cacche dei cani. È un paradosso, cioè, come dici, faccio un esempio, è come se mi dici, qui è di vieto di sosta, e poi magari fai le strisce bianche per parcheggiare. Allora, se è di vieto di sosta, perché mi fai le strisce bianche? Allora, se mi dici di vietato introdurre i cani, perché mi metti questo? Allora, può sembrare una cosa paradossale, anche una svista da parte, diciamo, degli amministratori comunali, però, a questo punto, due sono le cose. Uno, o togliete il cartello, vietato introdurre i cani negli aiuole, oppure conservate il cartello che dice che non si possono introdurre i cani negli aiuole, e mi togliete questo, perché tutte e due non possono convivere, perché uno è l'opposto dell'altro. C'è da dire un'altra cosa, c'è da dire un'altra cosa, Annunzio, che i cittadini che portano i cani qui, noi stiamo qui da una mezz'oretta, abbiamo visto diversi possessori di cani, con il proprio cane, però, eccoci, abbiamo delle immagini, adesso sconda delle immagini, però, siccome state mangiando, Annunzio, che dici, siccome stanno mangiando, qui è pieno di cacche, però ne facciamo vedere solo una, giusto così come aperitivo, come antipasto, diciamo, antipasto mare e monti. Basta, però vi posso dire che ce ne sono, è pieno, infatti stiamo pure attenti a camminare, perché altrimenti scalpestiamo qualche cacca di cani. Anche da quest'altro lato, Annunzio, ce ne sono, cioè è pieno. Allora io dico, scusate, possessori di cane, cioè non sono i cani sporcaccioni che fanno la cacca e non la raccolgono, siete voi alcuni possessori di cane sporcaccioni che non meritano di essere possessori di cane, non potete avere un cane se poi non rispettate l'ambiente, non rispettate i vostri simili e non rispettate il cane, perché il cane fa la cacca e non ha ancora capito che la deve pulire. Può darsi che in futuro ci saranno degli addestratori che addestreranno il cane, che farà la cacca e poi con la bocca, con il muso, prenderà la bustina e la bottiglia, ma siamo ancora nella preistoria. Quindi, diciamo, la colpa non è del cane, io a quel punto cambierei il cartello, non vietato di introdurre... Eh, vabbè, questo è un altro pericolo, deve scappare il morto, qui praticamente è stato tagliato l'albero, chiaramente non sono di questi amministratori, chissà che quando l'anno fa, è stato tagliato l'albero, è rimasto qui il ceppone, forse sono 5-10 centimetri, sopraelevato, no, un bambino, sa zoppe de cape, può succedere un danno, cortesemente, cioè, nuovi amministratori, fate un caspio di monitoraggio, una cosa del genere, viene portata a livello e poi mettete un pezzettino d'asfalto, cioè, ragazzi, tutto vi dobbiamo dire. Oh, stando al discorso del cartello, per, diciamo, i possessori di cani sporcaccioni, a quel punto è sbagliato, è sbagliato il cartello, vietato di introdurre cani, no, io cambierei e scriverei vietato di introdurre i padroni dei cani sporcaccioni, perché sono loro che non devono entrare, un cane potrà sì, cioè, questo è il discorso, il nocciolo della questione. Vabbè, mi auguro che dopo questa puntata, qualcuno dell'ufficio tecnico, anche lo stesso assessore Falcicchio, decide, o deve togliere questo, il contenitore, o deve abbattere questo, questo vietato di introdurre, perché i cani possono entrare nei giardini a fare le loro cose, l'importante è che i cittadini, i possessori dei cani, siano cucervi den gap, no, e abbiano questa diligenza di poi raccogliere la cacca e conferirla in questo, ma no, non si può sentire la puzza, Nunzio, dovevamo salutare, ah, dovevamo, ah, Nunzio, dovevamo salutare parecchi bambini, però Nunzio, io mi dimentico, te lo dico a te, tu ti dimentichi, a ciù ma dici, possiamo assumere una terza persona per ricordarci i bambini? Una segretaria, allora, AAA, Cercasi, segretaria, bella, bellissima, Formosa, 90, 60, 90, molto disponibile, diciamo, per ricordare, annunzi a me, i nomi dei bambini da salutare, se, pensi che Altamura è piena di belle ragazze, disposte a fare una cosa, quindi siamo a tua disposizione per farti fare questo lavoro, trovano almeno un bambino da salutare, ma, mostrate, non si può telefonare, che sta scorrendo, tutto Whatsapp, eh sì frate mi, però non è un bambino, è un ragazzo, come si chiama? Giuseppe Di Benedetto, oh, salutiamo, questo ragazzo, Giuseppe Di Benedetto, che ci segue sempre, voleva essere, l'abbiamo salutato, e poi gli altri che annunzi non li trova, poi la prossima volta, vabbè, ci vediamo sempre domani alle 14 e 10, ah, vi voglio ricordare che tra un po', ve l'avevo già detto la scorsa volta, parte una nuova rubrica, vediamo di farla una volta alla settimana, ora vediamo come possiamo farla, una volta ogni 10 giorni, oh, vengo più avanti, cretini, vieni avanti, cretini, oh, parte la nuova rubrica, la nuova, che si chiama, eh, indovina chi viene a pranzo, cioè nel senso che, noi intorno all'1 e 1 quarto, più o meno, quello è l'orario, dove ci troviamo, ci troviamo, in via Martiri, in via, eh, via Manzoni, via Zanardelli, via Deimille, via Solferino, via Boito, suoneremo il citofono, qualcuno viene a rispondere, buongiorno, indovina chi viene a pranzo, e saliremo, no, a casa vostra, e se ci volete invitare a pranzo, ci diciamo, no, la puntata si svolgerà a casa vostra, diciamo, diremo qualche chiacchiere, eh, dobbiamo vedere, come, diciamo, funziona la cucina, che cosa avete preparato, e poi, se sarà di nostro gradimento, è che noi siamo precise, noi siamo 5 stelle, 5 stelle come, diciamo, ristorante, Michelin, madonna me, 5 stelle Michelin, se, diciamo, sarà buono il pranzo, Nunzio, possiamo anche restare a pranzo, quindi, se sentite, no, intorno alle 13, 5, 13, il campanello del citofono, possiamo essere noi, che vi invitiamo alla nostra rubrica, indovina chi viene a pranzo, allora, per oggi è tutto, amici, ci vediamo domani, sempre intorno alle 14, 5, sempre dopo Canale 2, c'è, questa volta, una puntata, su Matera, Starvebo, è un'altra puntata, è un'altra puntata, di un'altra puntata, Grazie.